La concorrente Sonia Bruganelli ha fatto una rivelazione scioccante durante una diretta su Instagram, mettendo in dubbio la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Visibilmente provata dopo l'ennesimo spareggio, Sonia ha confessato di sentirsi al limite delle sue capacità, sia fisiche che emotive. La prossima puntata potrebbe essere decisiva per il suo futuro nel programma, insieme ai suoi rivali Francesco Paola Antoni e Anna Luca Stoldi. Nonostante il rinvio dell'eliminazione, Sonia ha espresso dubbi sui social riguardo alla sua permanenza nello show, ammettendo di essere fisicamente esausta e di considerare seriamente l'idea di ritirarsi. La concorrente ha sottolineato che il percorso a Ballando con le stelle si è rivelato molto diverso da quanto immaginato, con l'attenzione concentrata su di lei piuttosto che sul ballo. Questa situazione ha portato Sonia a chiedere il supporto dei suoi fan e a riflettere sulla sua partecipazione futura al programma. In un momento di grande incertezza, Sonia Bruganelli ha annunciato che prenderà una decisione sul suo futuro nella trasmissione nei prossimi giorni, dopo aver ricevuto il sostegno e l'affetto dei suoi sostegno.